Ciao ragazzi, bentornati nel canale, quindi benvenuti in un nuovo indovinello! Come prima cosa, come sempre, la soluzione all'indovinello precedente. Di quanti componenti è composta la famiglia Rossi? Beh, nove. Perché se hanno sei figli maschi e ogni figlio ha una sorella, beh, la sorella è quella in comune. E poi c'è babbo e mamma, quindi sette più due nove. E ora ascoltatemi bene, perché l'indovinello di oggi è molto difficile. Alessandro e Flavio stanno giocando a scacchi, ma entrambi, su cinque partite, ne hanno vinte tre. Come è possibile? Datemi la vostra risposta nei commenti. La soluzione, come sempre, nel prossimo indovinello.